Questa è un'insalata di peperoni, patate e tonno deliziosa, perfetta da servire nelle calde giornate estive. Se volete un piatto fresco e gustoso, questo è quello che fa per voi. Vediamo come prepararla insieme? Lava e cuoci i peperoni in forno o in frigitrice ad aria. Lessa le patate in acqua leggermente salata. Trasferisci i peperoni cotti in una ciotola, copri e lascia raffreddare completamente. Controlla la cottura delle patate e quindi spostale in un piatto e lasciale raffreddare. Pela le patate ormai tiepide e tagliale a tocchetti. Elimina la pelle e i semi dai peperoni ormai freddi. Taglia i peperoni ricavando delle falde. A questo punto trasferisci i peperoni tagliati in una ciotola e unisci le patate tagliate a tocchetti. Aggiusta di sale e pepe e aggiungi la menta o il prezzemolo o il basilico. L'aglio e un generoso filo d'olio. Mescola bene il tutto. Unisci adesso il tonno sgocciolato. Mescola e la nostra insalata sarebbe già pronta, però a questo punto potresti aggiungere delle olive, dei capperi, delle noci o delle mandorle. Versa l'insalata nel piatto di portata e lasciala riposare per mezz'ora prima di servire. Ancora un giro d'olio e voilà! La nostra insalata è pronta! Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.